Siamo con la presidentessa dell'Associazione Amici della Musica Giovanni Paesiello di Lucera, la professoressa Elvira Calabria. Un appuntamento d'oltre sala, quello di questa sera in cattedrale e con il maestro Francesco Di Lernia. Appuntamento d'oltre sala perché come l'anno scorso abbiamo fatto, non solo tutti i nostri eventi, quelli in abbonamento che sono avvenuti l'anno scorso nella sala concerti Paesiello, quest'anno al Teatro Garibaldi si stanno tenendo, ma si stanno facendo anche e seguendo concerti oltre sala, cioè al di fuori dei concerti programmati, dei concerti a pagamento. Sono ad ingresso libero e li stiamo tenendo sia alla cattedrale di Lucera e sia negli altri comuni della provincia, cioè avremo due concerti anche al comune di Biccari il 29 e 30 giugno. Abbiamo fatto un concerto a Vico del Gargano, ci sarà un altro concerto alla cattedrale di Troia il 15 luglio tenuto appunto dal violoncellista Francesco Mastromatteo che è il nostro direttore artistico e seguirà le suite di Bach per violoncello solo e poi continueremo nei mesi di novembre e dicembre, sempre con la programmazione preparata in anticipo e con questi concerti al teatro e oltre. In effetti professoressa diciamo che sono degli appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza che permettono diciamo di avvicinare alla musica anche chi magari non è appassionato che segue invece puntualmente gli appuntamenti degli amici della musica di Lucera. E' proprio questo il nostro compito che da 35 anni l'associazione Amici della musica fa, cioè avvicinare le persone alla musica. I ragazzi, a cominciare dai ragazzi che pur studiando nelle scuole, ora quasi in tutte le scuole si studia l'educazione musicale e la musica però non l'ascoltano i concerti. Una cosa è studiarla in classe, una cosa è ascoltarla nei concerti e seguite le musiche importanti, dei autori importantissimi, di Beethoven, Chopin, Bach, Mozart eccetera, da musicisti eccellenti, da esecutori. E quindi questo è avvicinare perché l'arte migliora, l'arte ci migliora, tutti quanti. Allora il nostro compito è appunto quello di migliorare il popolo, la popolazione, i giovani, ma le persone di qualsiasi età perché dobbiamo elevarci e l'arte leva. Siamo con il maestro Francesco Di Lernia, organista, che questa sera torna a suonare l'organo della cattedrale, un organo ottocentesco che è stato restituito alla cittadinanza qualche mese fa, infatti in occasione dell'inaugurazione lei era presente qui per dare appunto le note, restituire le note alla cittadinanza di questo strumento così sontuoso e così antico. Ecco, l'emozione di poter suonare uno strumento così in questo contesto che è quello della cattedrale di Lucera. Certo, lo strumento torna dopo un lungo periodo di inattività, dopo un grande restauro che è stato completato nel 2017, lo abbiamo inaugurato e anche nell'occasione è stato registrato anche uno dei cd dell'opera di Marco Enrico Bossi perché questo è uno strumento costruito da Carlo Vergezzi Bossi alla fine dell'Ottocento e inaugurato all'inizio del Novecento, quindi rappresenta uno degli strumenti dell'organaria italiana dell'inizio del Novecento. Quindi io ritorno con molta felicità qui in cattedrale a proporre un concerto diverso. A Lucera avete anche dei bellissimi strumenti storici. L'anno scorso, sempre per Musicalistownia, ho suonato l'organo di Innocenzo Galo della Madonna della Pietà, un complesso monumentale che aspetta veramente un restauro che lo riporti all'antico splendore. Dentro c'è un bellissimo organo di Innocenzo Galo nel 1743. Il concerto di stasera è impiantato un po' e improntato al romanticismo e spero che vi piaccia. Sono strumenti che hanno bisogno comunque di perfezionamenti quando vengono, diciamo, riabilitati al suono? Sono strumenti che hanno bisogno di essere suonati. Per fortuna qui anche a Lucera c'è anche chi studia questo strumento anche da me in conservatorio dove insegno organo e quindi c'è una continuità anche da parte della corale che ha sempre accompagnato e insomma ornato le celebrazioni liturgiche. Quindi l'organo è uno strumento vivo che va suonato nelle celebrazioni e anche sicuramente fuori dalle celebrazioni per ascoltarlo in un altro tipo di contesto. Ecco, Maestro Di Lernia, lei è un organista di fama internazionale perché ha avuto la possibilità appunto di suonare in vari luoghi e comunque avere collaborazioni eccetera. Quali sono i suoi progetti in questo periodo? Allora, i progetti per un organista d'estate sono sempre abbastanza folti. Adesso dopo una piccola settimana di vacanza che mi prenderò anche meritata dopo questo concerto, suonerò a luglio in un contesto a barletta per un contesto che riguarda sempre musica e arte e poi parto per i paesi nordici, ho un paio di concerti in Finlandia e poi in Belgio, poi ritornerò. Quindi ci sarà un'estate abbastanza intensa di appuntamenti musicali. E siamo con il maestro Francesco Mastro Matteo che è il direttore artistico dell'Associazione Amici della Musica Paesiello di Lucera. Ecco, per Musicalis Daunia questa sera un appuntamento dedicato all'organo grazie al maestro Di Lernia. Ecco, un appuntamento d'oltresala che vuole attirare un po' di cittadini per insomma godere di questo strumento bello, sontuoso, storico che la cattedrale ha. Certo, è una valorizzazione di una delle tante bellezze di Lucera, sicuramente una delle più significative. Credo sia sempre suggestivo pensare che il XX secolo si apre a Lucera con il suono di quest'organo suonato proprio da Marco Enrico Bossi, uno dei più grandi organisti italiani del XX secolo che ha voluto regalare a Lucera uno strumento e la sua arte e questa sera rinnoviamo questa tradizione che collocava Lucera nel centro della cultura mondiale, della cultura organistica mondiale e stasera riprendiamo quella tradizione attraverso il maestro Di Lernia, anche egli organista di fama mondiale, un'istituzione musicale della nostra terra che valorizza il bene artistico, uno dei beni artistici più importanti di questa città. Sicuramente insomma ci offrirà un repertorio variegato, insomma che spazierà dal barocco in poi. Sì, è un repertorio estremamente interessante, pieno della più affascinante diversità stilistica, abbiamo Handel come Mendelssohn, dunque barocco ma anche il romanticismo musicale, è un repertorio scelto proprio per le caratteristiche di quest'organo, molto diverso dal concerto ovviamente dello scorso anno, è un repertorio che vuole mettere in evidenza la bellezza del suono di questo strumento, le caratteristiche dello stesso e ovviamente il virtuosismo del maestro Francesco Di Lernia, un programma ricchissimo di colori. Ecco e parliamo anche di questa stagione concertistica, la 35esima promossa dalle amici della musica Paesiello di Lucera. Sì, è una stagione che si è presentata come particolarmente ricca, noi questa sera siamo appunto oltre sala, siamo in un appuntamento che vuole entrare proprio nel cuore della città, lo siamo anche come sempre grazie alla generosità della professoressa Elvira Calabria, lei in modo personale proprio sostiene questo concerto in modo particolare, anche grazie all'amicizia decennale con il maestro Di Lernia e soprattutto grazie alla generosità verso la città della professoressa. La 35esima stagione concertistica nasce nel legame con un'azienda, qual è l'Opera Broadcast Video Service e dunque lega l'arte, la tecnologia e la comunicazione. È una stagione, come sappiamo, ampiamente internazionale, è una stagione che valorizza il teatro Galibaldi, che ovviamente però nasce sempre in Sala Paesiello, che è un po' il cuore di tutte le nostre prove, e vuole, ripeto, arricchire Lucera nel porla al centro della vita culturale mondiale. Oramai, diciamo, ad Amsterdam, come a Berlino, i musicisti che sono nostri ospiti portano i colori di Lucera, così come a Boston o a New York. Basti pensare che martedì avremo in sala una docente della Hochschule für Musik di Lipsia e abbiamo appena avuto ospite un quartetto tedesco che appunto si muove tra Lipsia e Colonia. Abbiamo avuto il primo violino della Sinfonica di Rotterdam. Stiamo per ricevere un violoncellista americano che insegna a Dallas e dedicata a Boston e Philadelphia, che è Andres Diaz. Abbiamo cercato di ampliare il più possibile il raggio della presenza di Lucera. Attraverso lo streaming abbiamo portato la città, il teatro Galibaldi, stasera portiamo la cattedrale nel cuore della vita culturale mondiale. Si dice sempre che dobbiamo, come dire, spingere i nostri giovani ovviamente a vivere esperienze internazionali. Io credo che sia anche altrettanto importante proiettare la nostra terra nel mondo e proiettare l'orgoglio e la bellezza e l'arte che voi lucerini avete qui all'interno di un contesto ampiamente mondiale. Siamo felici di aver dato il nostro contributo, siamo felici di essere riusciti a presentare Lucera all'interno di un contesto artistico mondiale in cui Lucera addirittura è protagonista, protagonista assoluta con la sua bellezza. Grazie a tutti.